signore e signori un turista solitario ce l'abbiamo qua stasera ciao come ti chiami marco da dove vieni da bergamo cosa sei qua a festeggiare la cena della ditta la cena della ditta la ditta di un altro giusto tu ci lavori sì io vengo a mangiare basta giustamente giustamente come si chiama la ditta possiamo dirlo sana è una ditta sana ok ci sto basta vedere i dipendenti esatto ok ditta sana che produce robe sane certo da mangiare edili 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 ecco quelle rimangono un po sullo stomaco o più pesanti però ditta sana costruzioni sane sì ma tu sei di bergamo certo perfetto è vero che ogni ogni persona di bergamo che lavora nell'edilizia c'ha una cazzuola sul letto vicino sotto il letto vicino al manico del piccone sotto il letto vicino al manico del piccone questo è il tipico letto bergamasco non so se l'avete mai letto anche voi sulle riviste abbiamo i colleghi che si prendono gioco di te vai vai intervistare avvicinato dove vai aspetta stai stami vicino venite venite se anche tu il collega più o meno sì anche tu con la lui dorme con la cazzuola il piccone sotto il letto anche tu col pennello col pennello esatto lui è più speranzoso ecco lui è più insomma lui vorrebbe utilizzare meglio il pennello ma lavori con lui no non c'entra niente se quello che arriva da una spennellata e va via va ok quindi è lui che vi spennella è quello che finisce è quello che finisce sei contento di essere finito da lui certo bellissima questa cosa eh bello perfetto mi piace questa cosa anche tu da bergamo si vede dite la frase la parola ufficiale vota 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 c'è il riconoscimento vocale c'è il riconoscimento vocale perfetto allora siete qua a festeggiare la vostra cena di natale aziendale potete fargli auguri a qualche collega qualcuno di qualcosa cerca Samuel ma faglielo te il messaggio è quello che va fino è lui è lui quello che ci riprende pensavo fosse lui il Samuel è Samuel? sei Samuel? sei Samuel? lui sei ah vuole guardare ok dico che lo sei oh aspetta che salutiamo arrivo arrivo vieni qua allora un saluto dai colleghi della ditta sana di Bergamo buon Natale ragazzi salutate eccoli qua auguri auguri eh oh eh oh eh oh eh